Buongiorno, buon pomeriggio, sono Silvia Letton, professoressa di lettere e oggi vi vado a raccontare il regno di Filippo II. Filippo II è figlio di Carlo V che decide nel 1556 di abdicare e dividere il territorio su cui stava governando fra il fratello Ferdinando I che riceverà la corona imperiale e il figlio Filippo II che riceve la corona spagnola. La corona spagnola era formata dai seguenti territori, la Spagna, l'Italia meridionale, i Paesi Bassi spagnoli, cioè Belgio e Olanda e le colonie americane. Il regno è molto vasto e Filippo spesso è lento e cauto nel prendere delle decisioni, quindi c'è un po' una lungaggine molte volte nella comunicazione fra il centro e le periferie. Questo si va a sommare anche col fatto che la capitale che viene scelta da Filippo II è Madrid, Madrid che è il centro geografico del paese. All'epoca però era una piccola cittadina male collegato con il resto della nazione, quindi è tutto abbastanza macchinosa, macchinoso l'apparato burocratico. Filippo II però la scelta è quella di avere una corte stabile affinché questo possa consentirgli di portare avanti un potere assolutistico e di accentramento, quindi di potere nelle proprie mani e ulteriormente anche di essere un difensore del cattolicesimo. Filippo II inizia il processo di accentramento del potere nelle sue mani attraverso un forte apparato burocratico centralizzato. I funzionari vengono scelti fra la piccola nobiltà e i ceti urbani più acculturati, quindi comunque sceglie in qualche modo i personaggi che possono essere più idonei a questo tipo di lavoro. Ai vertici dello stato ci sono coloro che vengono chiamati consigli, i consejos in spagnolo, che curavano gli interessi generali di tutto lo stato, ma è necessario in qualche modo mantenere anche i rapporti con la nobiltà. Ricordo che il re che vuole avere un potere assoluto, vuol dire che ha un potere sciolto da ogni legame con la legge e accentra tutto il potere nelle sue mani. Più potere al re, meno potere alla nobiltà, all'aristocrazia, quindi è sempre necessario cercare di trovare in qualche modo un accordo, un equilibrio fra le parti, perché il re per quanto voglia governare in autonomia in maniera assoluta ha comunque bisogno in qualche modo dell'appoggio, della nobiltà. Per questo motivo Filippo II continua a garantire e a mantenere i privilegi di cui godeva l'aristocrazia e a lasciare comunque delle autonomie locali sulle territorio. Inoltre Filippo II, oltre a gestire ovviamente l'apparato burocratico, si occupa anche della questione religiosa, soprattutto attraverso il diritto di presentazione, cioè è la possibilità, è il compito che il sovrano ha di scegliere i vescovi. Soprattutto lui andava a scegliere quelli della Castiglia, perché? Perché poi sono quelli più vicini, più fidati a lui e sono quelli che poi verranno mandati sulle territorio, soprattutto nel Nuovo Mondo e nelle zone dell'Olanda dove era necessario da una parte fare il proselitismo, quindi cercare di convertire gli abitanti, gli indigeni in questo caso alla religione cristiana e in Olanda evitare che questi si convertissero al luteranesimo o al protestantesimo. Quindi questo è un lavoro molto importante che ha fatto. Dopo che il padre aveva effettuato la divisione del territorio e la corona spagnola era autonoma da quella imperiale, Filippo II non è più tenuto a trovare dei compromessi con i protestanti, perché la questione protestante rimane ed è nelle mani in realtà di Ferdinando I che si occupa della gestione del governo dei territori imperiali, quindi visto che non deve più trovare dei compromessi con i protestanti può farsi portavoce del cattolicesimo che diventa a tutti gli effetti uno strumento per consolidare la monarchia. Tanto che Filippo II porterà avanti una grande politica intollerante e di persecuzione contro gli ebrei e musulmani che in realtà si erano già convertiti, infatti si parla di conversos e di moriscos, ma Filippo II non crede in qualche modo che la loro conversione sia sincera, sia veritiera, tanto che nel 1568, mentre ci sono in atto comunque gli scontri con i turchi, c'è una forte persecuzione contro i moriscos, per quale motivo? Perché vengono accusati di infedeltà al re e di collusione invece con i turchi e contro il quale appunto si sta combattendo una guerra, quindi Filippo II pensa in qualche modo di avere dei nemici all'interno del proprio territorio, tanto che a un certo punto i moriscos sono obbligati ad abbandonare le loro usanze, le tradizioni, cosa che invece gli era stata concessa precedentemente da Carlo V, quindi vediamo che Filippo II è davvero intransigente da questo punto di vista, poi sono sempre gli anni della controriforma del concilio di Trento, quindi userà tutti gli strumenti persecutori dai tribunali dell'inquisizione, dai roghi, dall'indice dei libri proibiti, insomma tutto quello che può essere fatto affinché tutti coloro che non erano cattolici venissero sempre di più emarginati, perseguitati, in qualche modo costretti ad abbandonare il territorio su cui vivevano. Sai di fatto che questa politica così intollerante e intransigente in realtà alla lunga non converrà a Filippo II, per quale motivo? Perché è vero che la Spagna, la corona spagnola era ricchissima perché importava, riceveva l'oro, l'argento, tutta una serie di metalli preziosi dalle colonie del nuovo mondo, ma queste materie prime a un certo punto diventeranno un problema perché non c'è un sistema di produzione interna. La Spagna da un punto di vista economico è molto debole perché non è autosufficiente, in quanto non c'è una produzione agricola forte che possa comunque garantire banalmente l'alimentazione e la base alimentare della popolazione, ma importa sempre delle materie prime e per di più manca anche quello che è un settore secondario, non andremo a chiamarlo, cioè quello della trasformazione di queste materie prime, soprattutto legato anche all'oro e magari all'argento, perché questo non avviene, perché il ceto artigianale che si occupava di questo processo di trasformazione era in mano principalmente ai Moriscos, ma essendo comunque musulmani convertiti e in qualche modo perseguitati, molti di loro saranno un po' deportati, quindi obbligati proprio a lasciare il territorio e altri lo faranno anche liberamente perché diventa insostenibile vivere nel territorio spagnolo. Quindi sa di fatto che questa scelta di forte intransigenza religiosa impoverisce sempre di più comunque il settore dell'artigianato e di conseguenza anche tutta l'economia spagnola, tanto che l'eccesso di oro che arriva dalle colonie provoca una svalutazione del denaro che porta a un'inflazione interna e la corona spagnola non facendo mai nulla, non pensando degli interventi per cercare di trasformare la propria economia, andrà in bancarotta per ben tre volte e andrà quindi sempre a chiedere dei finanziamenti ai banchieri, alle famiglie più ricche che si trovano anche in qualche modo obbligati e costretti comunque ad assecondare il desiderio del re. Rimanendo a parlare del Nuovo Mondo, le terre del Nuovo Mondo iniziano a essere organizzate da un punto di vista anche maggiormente burocratico, le va quindi a stabilizzare. Si va a creare un viceregno della Nuova Spagna e sono i territori principalmente del Centro America dove troviamo i Maya, gli Astechi e gli Inca, queste popolazioni. A questo territorio della Nuova Spagna si aggiunge anche l'arcipelago delle Filippine. Si va a creare anche un viceregno del Perù che riguarda quindi tutta l'America meridionale sulla costa pacifica che era quella che era stata scoperta dagli spagnoli in più c'è anche un territorio legato alla Florida e alle Indie occidentali che sono poi i Caraibi. In questo territorio continua comunque in qualche modo lo sfruttamento, la violenza e lo sterminio delle popolazioni locali. Quindi questo è quello che riguarda il Sud America. Se rientriamo in Europa la Spagna deve combattere contro i turchi e contro gli olandesi. Contro i turchi abbiamo già accennato alla loro presenza e all'espansione dell'impero ottomano quando governava il padre di Filippo II, quando governava Carlo V. I turchi avevano occupato una grandissima parte del bacino delle terre che si affacciavano sul mar Mediterraneo tanto che si parla di lago ottomano appunto perché la loro presenza era molto forte. Dopo la pace di Chateau Cambrieris del 1559 le forze europee cercano tutte insieme di contrastare l'avanzata e l'espansione di questo popolo perché non si è fermato. C'è lo scontro più forte, quello che poi viene ricordato con la battaglia di Lepanto del 1571. Cosa succede? L'anno prima nel 1570 l'isola di Cipro che era un'isola sotto il controllo di Venezia viene attaccata e conquistata da un nuovo sultano. Di conseguenza si va a creare un'alleanza santa guidata dal Papa, dalla Spagna e da Venezia appunto per cercare di aiutare la popolazione sull'isola. I francesi in realtà loro non si vanno a schierare, cercano un po' di temporeggiare per non scontentare nessuno. Ci andiamo a ricordare che i francesi si erano alleati contro i turchi precedentemente perché sia la Francia sia l'impero ottomano avevano lo stesso nemico che era la figura di Carlo V quindi i francesi rimangono in attesa. Sa di fatto che la flotta cattolica riesce nel suo intento a vincere appunto contro i turchi. Questa vittoria è importante non tanto per la conquista territoriale ma perché pone fine all'espansione ottomana nel mar Mediterraneo che era davvero fortissima. Questa vittoria cattolica dà ulteriore forza a Filippo II per portare avanti la persecuzione dei Moriscos che vengono ufficialmente espulsi dalla Spagna nel 1609 quindi continua in realtà questo forte dissenso che Filippo II ha nei confronti di queste persone che erano di religione musulmana anche se poi si erano convertiti non si fida mai poi fondamentalmente di queste persone. L'altro stato contro cui deve andare a combattere è quello dei Paesi Bassi Spagnoli Paesi Bassi Spagnoli che sono i territori dell'Olanda e del Belgio che sono poco felici del dominio spagnolo. Per quale motivo? Perché Filippo II porta avanti la sua politica solutistica anche fuori dai confini della Spagna anche in questo territorio. Di conseguenza va a ridurre le autonomie locali e ulteriore fonte di malcontento è la forte tassazione che viene chiesta a questi territori. Quindi questi sono già dei punti che generano comunque delle inimicizie. ulteriore punto è legato sempre ai vescovi come accennavo prima sul territorio vengono mandati appunto i vescovi affinché possano diffondere il cattolicesimo e cercare di impedire e limitare la diffusione del calvinismo comunque del protestantesimo che si è diffuso nella parte più settentrionale dell'Europa. Cosa succede? Nel 1566 a un certo punto alcuni, un gruppo di aristocratici e della borghesia delle Fiantre protestano apertamente contro Filippo II perché chiedono un alleggerimento della pressione fiscale e chiedono di poter avere maggiore autonomia sia da un punto di vista politico ma anche da un punto di vista religioso. Inizialmente Filippo II sembra accettare le richieste di questo gruppo dell'aristocrazia e della borghesia ma poi cambia idea e cerca di sedare la ribellione in una maniera molto feroce e molto violenta viene istituito un tribunale che emette svariate condanne contro coloro che si sono ribellati al re tanto che si parla di consiglio del sangue perché fu davvero un intervento molto forte. Questa scelta in realtà non va a sedare gli animi, anzi c'è una nuova ondata di proteste in quanto la repressione non risolve il problema, anzi lo va a allargare tanto che si va a parlare di una guerra nazionale. Le regioni intendono in questo momento mettere da parte le differenze culturali che c'erano nel territorio e andare a combattere contro un nemico comune che è Filippo II. A capo di questa rivolta infatti ci sarà Guglielmo I d'Orange che è cattolico tra l'altro e quindi sembra appunto davvero che le parti possono unirsi e combattere contro un nemico comune ma questa alleanza interna dura poco. Filippo II manda sul territorio un governatore Alessandro Farnese per cercare di pacificare, di limitare queste rivolte e Alessandro Farnese cerca di avere una linea abbastanza morbida cerca di creare un compromesso fra cattolici e protestanti ma anche qui in realtà è una soluzione sempre temporanea. I Paesi Bassi si dividono poi in maniera chiara in due parti il nord sotto un'unione di Utrecht composta quindi da calvinisti e che vogliono l'indipendenza tanto che a un certo punto riusciranno ad averla nel 1579 e poi le province ribelli nel 1581 daranno vita a quelle che prenderanno nome di province unite che saranno governate sempre da Guglielmo I d'Orange le regioni del sud invece si vanno a unire in quella che prende il nome di Unione di Arras da chi è gestita dall'aristocrazia terriera che invece rimane cattolica quindi fedele a Filippo II gli scontri in realtà continuano fra queste due parti con Filippo II anche fino al 1609 fino a quando si va a chiudere lo scontro con una tregua che si prenderà il nome della tregua dei 12 anni quindi in qualche modo si va a riconoscere l'indipendenza dell'Olanda che verrà poi sancita ufficialmente soltanto nel 1648 quindi molto più avanti però fino anche subito dopo questa tregua dei 12 anni comunque la Spagna tratta le province unite come se fossero uno stato indipendente quindi poi diventa naturale nel 1648 poter andare a riconoscere ufficialmente la nascita di questo stato questa è una prima parte è già abbastanza ricca del governo di Filippo II ci sarà un altro video in cui vedremo lo scontro fra Filippo II e la Gran Bretagna e andremo anche a parlare un pochino della Gran Bretagna che diventa sempre di più importante in questo periodo storico visto che nel 500 la Spagna raggiunge sicuramente la sua maggiore espansione ma la crisi economica intera di cui vi ho accennato la porterà sempre di più al declino al contrario della Gran Bretagna che diventerà sempre più una grande potenza spero che questo video vi sia stato utile buono studio